Il Raffadali torna a vincere in eccellenza e lo fa contro una delle squadre più in forma del momento, il Villa Bate di Rosario Compagno. E' il primo successo del 2007 per la compagine giallo-verde, tre punti fondamentali sul neutro di Porto Empedocle per sperare nella salvezza diretta. La squadra palermitana, tecnicamente più forte del Raffadali, invece ha deluso le aspettative della vigilia. La squadra del presidente Arena è sembrata svogliata e priva di mordente. Il pareggio forse sarebbe stato il risultato più giusto perché le due formazioni si sono annullate a vicenda. Il Villa Bate è al gran completo, Longo invece deve rinunciare a piazze Melfa squalificati. Bellavia, non al meglio della condizione, va in panchina. Arbitra Guarrino di Caltanissetta, sugli spalti pochissimo pubblico. La gara stenta parecchio a decollare, poco gioco, attaccanti malserviti e nessun tira in porta nei primi 15 minuti. Al sedicesimo una punizione di Flauto, termina alta sopra la traversa. Al ventesimo correnti, in becca Licastri, colpo di testa fiacco e indelicato para. Il Raffadali, ben messo in campo da lungo, si limita a contenere i tentativi di attacco degli avversari e prova a colpire in contropiede senza mai però impensierire Taormina. Al venticinquesimo ci prova dalla media distanza Pitarresi ma indelicato alza in angolo. Il primo tempo non offre altre emozioni. Ripresa più agguerrita, le due formazioni osano di più in avanti perché il pareggio non serve a nessuno. Al settimo, Caratabbiano su punizione sfiora la rete. Un minuto più tardi, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, il pedico impegna severamente indelicato. Poi l'azione sfuma. Palla gol per il Raffadali al tredicesimo. Pezzino lancia termini che tira ma Taormina ci mette la manona e salva il risultato. Poi entra Bellavia per Vella. Il centravanti Agrigentino che da solo fa reparto si mette subito in mostra. Al ventitresimo lotta corpo a corpo con due difensori su una palla vagante e conquista una preziosa punizione dal limite. Caratabbiano calce in maniera magistrale ed il Raffadali passa in vantaggio. Il Villabate va all'arrembaggio della porta di indelicato. Tiro cross di pedico al trentesimo, palla fuori di poco. Al trentatresimo il Raffadali rimane in dieci. Scarpinato già ammunito calce il pallone verso la porta a gioco fermo e si becca il secondo cartellino giallo. Il forcing finale degli ospiti però non cambia il risultato. Nemmeno il doppio cambio Matranga e Priola per Di Maria e Correnti produce gli effetti sperati. Il Villabate non segna e perde anche il difensore cacciatore per doppia ammunizione. Al novantunesimo ultimo brivido per indelicato. Priola in becca a Matranga ma pallone alto sopra la traversa. Finisce in gloria per il Raffadali che porta a casa la vittoria che dà morale e fiducia a tutto l'ambiente. Il Villabate invece rallenta la corsa verso i playoff ma compagno è soddisfatto della prova della sua squadra. Io sono contento che questi ragazzi crescono domenica in domenica. Hanno cercato fuori casa come piace a me di fare sempre la partita. A parte ci siamo riusciti a parte no e quindi io di questo ne sono contento. Poi per il resto ci può stare magari la svista la cosa però dobbiamo essere più bravi e più cattivi nel concretizzare quello che riusciamo a creare. Qualche cosina l'ho vista di positivo sotto porta. Peccato, è mancato il gol però sono contento perché vedo che questa squadra cresce domenica in domenica. Finalmente una grande prova d'orgoglio del Raffadali che batte il Villabate annunciato in grande forma. Sicuramente oggi era molto difficile contro una squadra, secondo me una delle migliori squadre del campionato. Ben messa in campo, giocatore di livello credo superiore. Oggi era importante vincere anche dettato dal fatto che c'erano molte assenze molto importanti nel Raffadali. L'unica cosa che a noi interessava oggi è vincere. Abbiamo giocato con orgoglio, come hai detto bene tu, e credo che alla fine il risultato sia meritato. Mercoledì un'altra gara a Casalinga qui a Portempedocle contro la Folgore. Servono altri tre punti per raggiungere la salvezza? Noi non ci possiamo permettere passi falsi. Almeno le partite in casa le dobbiamo vincere per cercare di sperare e proseguire per il cammino della salvezza. Ancora è possibile, anche se difficile, però ci dobbiamo provare. Alla nostra portata, noi recuperando tutti gli uomini infortunati e anche gli squalificati, credo che possiamo anche raggiungere la salvezza. Grazie.